Da un anno a questa parte Cafoscari sia direttamente sia attraverso la Fondazione Cafoscari ha avviato una serie di relazioni, attività, consulenze, rapporti di collaborazione col mondo delle imprese, non soltanto le imprese del territorio ma in termini molto più ampi, rapporti di collaborazione anche con imprese internazionali. Siamo in grado di offrire la competenza dei nostri studenti, per esempio attraverso il finanziamento di borsi di dottorato, grazie alle quali lo studente poi realizza, innova, studia in un campo, in un settore che è utile all'azienda. Oppure attraverso le competenze dei nostri docenti che fanno delle ricerche utili al mondo delle aziende, hanno conoscenze utili al mondo delle aziende che spaziano da quelle scientifiche, a quelle economiche, a quelle culturali perché effettivamente al mondo delle aziende venete non solo siamo in grado di dare tantissimi servizi. Tutto questo oggi lo si trova anche nel sito web di Cafoscari che è un percorso dedicato alla collaborazione col mondo delle aziende e grazie a questo percorso le aziende con grande facilità riuscirono a cogliere tutte le opportunità anche di ordine fiscale perché ci sono degli incentivi importanti che l'Ateneo propone loro e realizza assieme a loro.